Ciao, io sono Pogodoggo e benvenuti in 10 domande senza senso, il format in cui in ogni episodio andremo a fare 10 domande senza senso ad uno youtuber diverso. Oggi ne avremo ben due, questo è quattro, ne avremo ben due, ossia Edoardo fa cose e la sedia a due gambe, la coppiata migliore del mondo. Per editare questo video ci ho messo tipo 27 ore e non sto scherzando, vi posso assicurare che questo video sarà un delirio totale, fidatevi. Fatemi sapere nei commenti quale altro ospite vorreste vedere in 10 domande senza senso, vi do un piccolo spoiler sul prossimo episodio, colore viola e basta, non dirò più nulla e ora godetevi questa follia di video, letteralmente. Allora, inizierei subito con la prima domanda, Edoardo tu sei un manichino fatto di legno, tu sedia sei una sedia di legno. Ora, a proposito di tutto questo legno volevo chiedervi, pizza o sushi? Innanzitutto sono un'automa, comunque direi pizza. Tu invece sedia? Pizza. Vi fa schifo il sushi a quanto pare? Di recente Edoardo mi ha fatto mangiare la pizza, quella vera però. Eh, vabbè, ragazzi, scrivete nei commenti se preferite pizza o pizza. Seconda domanda. Un famoso poeta una volta disse, Shrek è vita, Shrek è amore. Voi vi ritrovate in queste parole? Per voi Shrek, cos'è? My body is ready. Io do tutto mi stesso a Shrek. Tu sedia, cosa dai a Shrek? Eh, Shrek è il padre che ho sempre voluto, tutto quello che ho sempre desiderato in una figura paterna. Shrek credo che abiti nel cuore di tutti noi, cioè capito, è proprio dentro di noi. Domanda numero tre. Ritornando al discorso manichino e sedia, anzi, automa e sedia, vedi, sono bravo, l'ho cambiata in corso d'opera. Giusto per restare in tema edilizia, voi in che... Eh, dicevo, in che mobile dell'IKEA vi identificate? Io nelle matite dell'IKEA che trovi all'ingresso. Eh, le matite sono molto belle in realtà. Però se ci sputi sopra un po' di collante, semmeno ci fai un bel mobile. Tu sedia. Allora, guarda, io ho sempre avuto un debole per Jokmok. Cos'è? Cos'è? È una sedia di IKEA. Jokmok. Sembra un insulto in qualche dialetto. Oh, Jokmok! Comunque. Sono un personaggio di Squid Game. Zero due, Jokmok. Beh, ci sta, ci sta. È bello, eh? È molto bello. Domanda numero quattro. Non puoi dire... È molto bello. È molto... È molto bello. È molto bello. Domanda numero quattro. Questa sedia è per te. Ok. Scommetto che anche tu hai pensato, la prima volta che hai visto Edoardo, che fosse lo Slender. Tutti però lo pensano. Ma lui non vuole ammetterlo. Ho ragione. Lo dico davanti alle telecamere, ma... Edoardo in realtà... Delle volte si veste da Slenderman. Con giacca e cravatta o con i tentacoli? Edoardo, posso dirlo? Va bene, raccontate le nostre serate, va bene. No! Con la seconda, Pogo, con la seconda. Però quello non credo sia nella categoria horror. No, esattamente. Nel dubbio, lasciamo un alone di mistero in questa risposta, che è meglio. Questa, invece, è una domanda per Edoardo. Namo. Secondo te, dove sono finite le altre due gambe di sedia? Potrebbe essere collegata a quella di prima, ma non voglio sapere. Allora, constatando il fatto che... Allora, noi sappiamo che sedia non ricorda le sue origini, ok? Lei si ricorda così com'è. Lei si è trovata in un armadio proprio così. Quindi, io direi... Direi che proprio come la sua vita, lei è uno sbaglio. Ma che tristezza! Quindi sì, non sono mai esistite quelle altre due gambe. Sedia, puoi controbattere, puoi insultarlo anche tu. Questa è fuori programma, ma vai. Non mi è piaciuto così tanto il dolce che mi hai preparato l'altra sera. Ma come? Potevi fare di meglio, ma va bene. Invece è colpito nel profondo. Questa, invece, è una domanda che mi pongo da tantissimo tempo. Ho passato notti insonni pur di trovare una risposta a questa domanda. E voglio chiedere a voi. La domanda è... Se sì, perché? Ehm... Ehm... Eh, beh, è difficile, è difficile. Ehm... Mamma! Mamma, io non ci volevo venire, mamma! Cioè, capisci? Se sì, perché? Se sì, cosa? E perché cosa? Capito? Ma la domanda successiva riprende questa domanda, perché se no sono le guai. No, 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 la domanda successiva non c'entra nulla. Ma se sì, perché? Vedi? Torniamo sempre lì! È un disastro, Edo. Sedia, sedia, di qualcosa, sedia. Ehm... Perché... Perché... Perché sì? Anche io penso sia quella la risposta. Cioè, se sì, perché? Perché sì? Cioè, senza girarci troppo intorno. Ok, forse ci siamo arrivati. Edo, tu sei d'accordo? Ma voi parlate il linguaggio degli dei, Ehi, non sto capendo niente. Sì, sono d'accordo. Almeno non mi sento escluso. Eh, ma se sì, perché? Passiamo alla prossima domanda. Questa è un po' più seria. Sì, sì, sì. Vi chiedo di dirmi il vostro più grande difetto. Il mio più grande difetto è... Il mio è quello di interrompere le persone non in te. Ma è incredibile! È incredibile! Sì, dicevi, dicevi, Edo. Farlo più! Stavo per dire che sono sensibile. Sedia il tuo? Ehm... Il mio, penso... Passiamo alla prossima domanda. Domanda numero otto. Adesso voglio sapere da sedia una cosa che apprezza di Edoardo. E ovviamente da Edoardo una cosa che apprezzi degli ornitorinchi. Va bene. Vai, sedia. Scusa, mi sto cercando di riprendere. Non so perché, ma questa sessione non è tipo una cosa di terapia di coppia, vero? No, 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 perché ci sono gli ornitorinchi di mezzo, quindi non è di coppia. È una cosa che apprezzo di Edoardo quando fa la voce profonda. Mmm, interessante. Edo, adesso tu mi devi rispondere facendo la voce profonda. Praticamente gli ornitorinchi sanno sudare latte. Questa cosa è anche... Come? Sudano latte. Come? Esattamente. Sudano latte. E sterrano latte da... Corpo. E quindi... Vabbè, io direi... Di andare avanti. Cioè, nel senso, mi è piaciuta comunque come risposta. Mi è venuto anche da piangere. È morto. L'intervista è diventata tra me sedia perché Edoardo, purtroppo, ci ha abbandonati. Domanda numero 9. Secondo voi, cosa prova la frutta mentre la mangiate? Questa non è stata assolutamente rubata dai video di Edoardo. Assolutamente no. Cosa prova secondo voi, Edoardo? Secondo me è una prova. Ma questa è una mela, un'arancia, una banana? Chi è che fa questo verso? Un cocomero. Tondo tondo. Che voleva essere il più grande del mondo. Un bel giorno morì. Beh, in realtà dovete sapere che... So che non mi segui da tanto Poggo, però in realtà io posso parlare con la frutta. Davvero? Sì, te lo giuro. No, questo non lo sapevo. Questa mi è nuova. Eh, sì. Per chi mi segue da tantissimo lo conosce questo mio potere. In realtà a loro non piace vivere. Quindi quando vengono mangiati in realtà sono contento. Ah, tipo... Sì, mangiami, ti prego. No, no, no. È più... Mangiami, ti prego. Voglio morire. E quindi qual è la verità? La frutta che urla di Edo? O la tua frutta che vuole morire? Non lo so, io ho un superpotere. Edo, tu che cosa hai? Sono stato di mente. Può essere. Non lo so, io non sono d'accordo. Rimarrò della mia opinione, Edo, se non ti dispiace. Ultima domanda. Questa è di cultura generale. Di che colore era il Napoleone bianco di cavallo? Shrek. Ok, sedia? Shrek, sono sicuro che è Shrek. Perfetto, vedete? Torniamo sempre lì. Torniamo sempre su Shrek e vita. Shrek è amore. E a quanto pare è anche un colore. Che fa anche rima. Non è una coincidenza. È anche questo episodio di 10 domande senza senso è finito. Volete salutare il pubblico? Io non sto affatto per risalutare per la seconda volta, visto che Pogo ha cancellato i saluti finali per sbaglio. Non l'ho fatto apposta. Volevo solo dire che con questo video ho scoperto di avere un cervello perché mi sta collando dalle orecchie. Grazie mille, Pogo, grazie mille. Ragazzi, e voi scappate finché siete in tempo scappate. Non li ho rapiti per fare questo format, assolutamente. Allora perché ci hai legati? Al prossimo video!